Un po' di soddisfazione nel vedere una persona che ha personalizzato una opposizione politica a una norma in quel modo anche violento, un po' di soddisfazione personale l'ho avuta nel vederlo descritto come perdente. Ecco, questo credo che sia, al di là del fatto che ha ancora un seguito, ma sostanzialmente rispetto all'Italia a cui ha parlato, oggi è un perdente, anche vorrei dire nella manifestazione di oggi, perché c'è un contrasto.